ciao fragolini e ciao fragoline allora questo è un video diverso ovviamente perché ho deciso di non farmi vedere no e dato che volevo farvi vedere il gratte vinci nuovo che questo qua questo è un gratte vinci nuovo che si chiama eldorado l'ho visto costa 3 euro neanche tanto e volevo vedere se ovviamente con questo nuovo gratte vinci spero di vincere qualcosa anche 2 euro 3 euro tanto per recuperare e comprare un altro gratte vinci e niente ho voluto prendere questo per cui adesso grattiamo insieme e vediamo se abbiamo vinto vi ricordo lo stesso di iscrivervi al canale attivando la campanellina e un commentino qua sotto mi raccomando oggi non voglio farmi vedere perché voglio che sia un video diverso poi ovviamente da aprire vi farò vedere è solo per questo questo diciamo questo video appunto perché poi dopo tra poco devo andare anche lavorare niente per cui iniziamo a grattare credo che devi trovare i simboli con numeri vincenti e poi dopo c'è anche il bonus per cui proviamo a grattare scusate se sono in questa posizione ma ho cambiato cavalletto ma questo cavalletto diciamo che non è il migliore fatemi sapere anche del video della qualità perché adesso vediamo se vi faccio lo zoom ok perché ho cambiato anche telefono e dato che ho cambiato anche telefono fatemi sapere la qualità del video e se registra bene così posso registrare poi ancora con questo telefono qua iniziamo con i numeri vincenti io so se abbiamo cioè io so già se abbiamo vinto o abbiamo perso i numeri vincenti sono 22 e 20 invece i simboli sono lingotto e il sacchetto è scomodissimo da grattare praticamente così ma è l'unica scelta e vediamo sotto qui allora qui abbiamo un 17 per cui niente poi lo devo tenere così poi un 15 se vabbè già i numeri sono altissimi poi c'è il 21 cavolo non ci credo abbiamo il 22 il 20 e niente c'è ma ma che sfiga potevo vincere 5 euro poi qui abbiamo cartina per cui non ce l'abbiamo la cartina passiamo al numero 14 che non c'è il 13 che non ce l'abbiamo poi qua invece abbiamo un simbolo che è un anello non abbiamo l'anello invece qua è un 12 si beh a parte che i numeri sono altissimi ed è difficile poi sotto abbiamo un diamante niente neanche col diamante sabbia neanche questo poi abbiamo il pappagallo che ovviamente non ce l'abbiamo e poi per finire un altro simbolo qui con 3 euro c'era la collana che giustamente non ce l'abbiamo proviamo a vedere qua il bonus al bonus è pentolone per cui dire niente e qui abbiamo un 23 che non ce l'abbiamo vediamo il premio qua era moltiplicato per 2 in poche parole bene ve lo faccio vedere direi che non abbiamo vinto e vabbè a parte che io lo sapevo perché come vedete qua sotto ho già grattato il codice a barre che mi dice se ho vinto o perso con l'applicazione se volete vi faccio vedere l'applicazione già che ci sono così almeno vi faccio vedere l'applicazione che dato che un ragazzo me l'ha chiesto sia l'applicazione che applicazione è e come si usa così almeno già che sono vi faccio vedere l'applicazione allora questa è l'applicazione questa qua si chiama my lotteries voi ci cliccate sopra ovviamente la dovete scaricare aspettate che ok ci cliccate sopra allora dovete andare a cercare gratte vinci che questo poi qua ci sono tutti i biglietti che vi fa vedere ovviamente quanto costano tutti questi biglietti qua voi andate su verifica vincite che questo che è un codice praticamente a barre è facilissimo da usare questa applicazione voi con con il codice qua barre praticamente dovete fare così adesso non so se prende ovviamente grattate bene perché sennò non prende fate così dovete solo con il con il codice fare praticamente così e vi esce se il biglietto è vincente o è perdente a me non mi esce ho notato adesso perché qui dove c'è il gratte vinci si è praticamente cancellato e si è rovinato e non deve essere rovinato perché se è rovinato giustamente non vi può cioè non vi può dire se è vincente o perdente dovete grattare bene e ovviamente stare attenti a non rovinarlo io l'ho rovinato e vabbè comunque il prossimo video vi farò vedere meglio con un altro gratte vinci io ho solo questo ho preso solo questo qua di gratte vinci perché è nuovo e volevo provare solo questo poi quando prenderò gli altri vi farò vedere con l'applicazione che esce vincente o perdente però è semplicissimo a usare la questa applicazione qua poi potete anche vedere il 10 lotto lotto cioè praticamente è su tutto ed è semplicissimo usare questa applicazione qua basta solo andare su verifica vincite voi con con questo praticamente fate così e vi esce ovviamente la vincita o se avete perso tutto qua ma è facilissima niente ok allora vabbè questa è andata male spero che la prossima volta che prenderò gratte vinci andrà bene e noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando un commentino qua sotto se voi comprate gratte vinci e se avete vinto qualcosa fatemelo sapere almeno oppure fatemi sapere quello che volete anche solo per lasciarmi un commentino qua sotto io vi saluto spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao